Il giorno reca lo svolgimento di audizioni informali nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge 2207 Boldrini, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro numero 190 sull'eliminazione della violenza e delle moleste sul luogo di lavoro adottata a Ginevra il 21 giugno 2019, nel corso della 108esima sessione della Conferenza Generale della Medesima Organizzazione. La prima audizione informale prevista all'ordine del giorno è quella del direttore dell'Ufficio per l'Italia dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, Giovanni Rosas, accompagnato dalla dottoressa Erika Barbaccia, al quale do la parola affinché svolga il suo intervento per un periodo di circa 15-20 minuti, ricordando che il tempo a disposizione, quindi anche con le domande, è complessivamente per circa 45 minuti. Avverto inoltre in via preliminare che secondo il parere dell'Aggiunta per il regolamento le audizioni informali possono essere trasmesse attraverso la web tv della Camera dei Deputati con il consenso degli auditi. Quindi chiedo se ci sono... ok, non ci sono obiezioni, quindi possiamo disporre la pubblicità dei lavori e do la parola al dottor Rosas, prego. Grazie Presidente, allora buon pomeriggio a tutte e a tutti. Vorrei innanzitutto ringraziare la Presidenza, le onorevoli e gli onorevoli presenti in questa seduta e congratularmi con l'onorevole Boldrini per l'iniziativa nella predisposizione e presentazione di un disegno di legge per la ratifica della Convenzione 190 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sull'eliminazione delle molestie e della violenza nel mondo del lavoro. Visto che ho 20 minuti a disposizione cercherò di fare un po' un'analisi principale rispetto alle presentazioni che facciamo solitamente che si focalizzano sui singoli aspetti della Convenzione. Parlerò principalmente del processo che ha portato all'adozione e anche delle negoziazioni che hanno definito l'impianto principale della Convenzione. Così da dare modo di capire il processo che è stato seguito in sede internazionale a Ginevra. Tra l'altro io ho partecipato alle due sessioni della conferenza, ero responsabile per gli amendamenti e sub-amendamenti in aula, quindi ho potuto vedere di persone e partecipare a queste discussioni. Innanzitutto vorrei cominciare con alcuni dati di contesto, alcuni dei quali sicuramente siete a conoscenza. I dati in generale sono rari e sporadici, però in Italia c'è un'indagine che viene svolta dall'Istat con una certa periodicità sulla sicurezza dei cittadini che in pratica dice, i dati alla mano, che 1.400.000 lavoratrici hanno subito violenze e molestie nel corso della loro vita. E quello che è anche interessante è che i dati indicano i settori a maggiore incidenza, come ad esempio il settore dei servizi, l'età medio-giovane delle vittime di violenza e molestia, anche il livello di educazione o di istruzione medio-alto e anche che le incidenze maggiori avvengono al momento del sostenimento del colloquio di lavoro o al momento dell'assunzione. Ma ciò che è anche interessante sono dei dati forse un po' meno conosciuti sempre dell'Istat che danno evidenza che l'80% delle vittime di violenze e molestie non ne fanno parola con nessuno nei luoghi di lavoro. E quando si va a vedere qual è la percentuale delle vittime che denunciano, si arriva ad una percentuale dello 0,9%. E poi come vedete nel grafico, questa è un po' una fotografia dei paesi europei, l'Italia è il paese cerchiato, che cosa si vede da questa analisi, dai dati che noi abbiamo analizzato dell'indagine europea sulle condizioni di lavoro, che i paesi che riportano maggiore incidenza sono i paesi nordici, mentre i paesi dell'Europa del sud sono quelli che riportano minore incidenza. E l'Italia è il quarto ultimo posto. Quindi questo, lascio a voi dedurre le conclusioni, potrebbe essere una minore incidenza effettivamente, ma anche un incrocio col dato dell'80% che non fa parola a nessuno, potrebbe anche essere un fenomeno che in inglese si chiama under-reporting, cioè che non si riporta per le ragioni che abbiamo menzionato prima. Il processo di adozione della Convenzione. Devo menzionare che c'è anche una raccomandazione che accompagna la Convenzione, che è la raccomandazione 206, che è stata stilata per dare linee guida ai paesi membri dopo la ratifica della Convenzione stessa. Comunque è un processo che è iniziato nel 2015, quando un gruppo di paesi ha chiesto al Consiglio di amministrazione di avere una decisione in seno alla Conferenza internazionale del lavoro su norme internazionali per l'eliminazione delle molestie e delle violenze nel mondo del lavoro. Mi fa piacere menzionare che l'Italia è stato uno dei governi promotori di questa discussione e anche uno dei governi che ha avuto un'azione propulsiva anche all'interno del gruppo dei paesi dell'Unione Europea. Dopo una serie di consultazioni, ma anche internazionali, riunioni di esperti a livello internazionale, ma soprattutto un processo di feedback continuo con gli Stati membri, si è arrivati ad abbozzare il testo della Convenzione, che poi è stato discusso per due anni, cioè durante due sessioni della conferenza nel 2018 e nel 2019, e finalmente è adottato il 21 giugno scorso. Ho già menzionato un po' qual è la funzione o quali sono anche dal punto di vista giuridico i tratti caratteristici di una Convenzione. Una Convenzione è un trattato internazionale che, una volta ratificato, deve essere trasposto nella legislazione nazionale, per le parti della legislazione che non sono conformi ai principi del trattato internazionale, mentre, come dicevo prima, le raccomandazioni dettano delle linee guida nella applicazione della Convenzione. Allora, la Convenzione è stata adottata, è stata negoziata, e poi dirò i punti più critici della negoziazione, è stata negoziata quasi parola per parola, ma c'è stato soprattutto un processo di mediazione e di bilanciamento rinunciamento delle preoccupazioni e degli interessi delle diverse componenti dell'organizzazione che, ricordo, non sono solo gli Stati, ma anche le rappresentanze dattoriali e i sindacati, che quindi ha portato ad un'adozione a larga maggioranza della Convenzione. Come vedete nello schermo, ci sono state 439 voti a favore, 7 voti contrari e 30 stensioni. E dei 4 voti disponibili per l'Italia, quindi per la rappresentanza di partita italiana, sono tutti andati a favore della Convenzione. Perché è uno strumento normativo necessario questa Convenzione? Da molti è stato definito uno strumento storico, perché, in effetti, come vedremo in seguito, l'obiettivo è di colmare delle lacune normative sia a livello internazionale che nazionale sul tema della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro. Ma diciamo che è importante perché la violenza e le molestie minacciano le pari opportunità e, soprattutto per le donne e per le lavoratrici, costituiscono un ostacolo all'entrare e al permanere nel mercato del lavoro. Ma hanno anche, ovviamente, delle ripercussioni e dei costi per, diciamo, delle ripercussioni in termini fisici, in termini psicologici e sessuali delle lavoratrici e dei lavoratori. Minano la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori e hanno anche un impatto sulle famiglie e anche dei costi per lo Stato. Pensiamo, ad esempio, ai costi connessi con la salute. Hanno anche dei costi per quanto riguarda, insomma, o comunque minano lo sviluppo di imprese sostenibili, sia attraverso dei costi diretti, che possono essere calcolati, ad esempio, attraverso, insomma, l'assenteismo e il turnover, ma anche dei costi indiretti, come, ad esempio, i costi relativi alla perdita di reputazione dell'impresa, alla riduzione della produttività e quindi della competitività. Per farvi un esempio, il Regno Unito ha condotto un'analisi per un anno, l'impatto in un anno del solo bullismo, ha prodotto una perdita di 33,6 milioni di giornate lavorative e dei costi pari a 16 miliardi di euro, l'equivalente di 16 miliardi di euro. Quindi, diciamo, è evidente. Gli elementi innovativi della Convenzione. Innanzitutto, come ho detto prima, è un trattato internazionale, cioè, a livello internazionale, non esisteva nessuna norma sulla violenza, sulla prevenzione, il contrasto della violenza e le molestie nel mondo del lavoro. Ancora è innovativo perché afferma che la violenza e le molestie costituiscono una violazione dei diritti umani, una violazione o un abuso dei diritti umani e riconosce il diritto di tutti e di tutte a un mondo del lavoro libero da violenza e molestie. Come avete visto, diciamo, nella prima slide abbiamo messo una foto, tolleranza zero alla violenza e le molestie nel mondo del lavoro. Ma è anche uno strumento logimirante perché prende in considerazione la natura evolutiva del mondo del lavoro e vedremo poi come questo viene preso in considerazione. Allora, quali sono gli obblighi per gli Stati che ratificano e quali sono le flessibilità? Innanzitutto ci sono due, e questo è proprio l'impianto principale della Convenzione, ci sono due obblighi per gli Stati che appunto rispettare, promuovere e realizzare il diritto di tutti e di tutte al mondo del lavoro libero da violenza e molestie e poi anche l'obbligo di adottare un approccio che è inclusivo, integrato e basato sul genere che contempli quindi l'attuazione di misure, di prevenzione e di contrasto della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro. Quindi un approccio inclusivo perché ricomprende, come vedremo in seguito, ma lo anticipo qui così andremo più velocemente in seguito, che ricomprende tutte le persone che sono nel mondo del lavoro e quindi non solo le lavoratrici e i lavoratori e comprende anche tutti i settori, incluso sia pubblico che privato, ma anche i settori dell'economia informale e formale e i settori dell'economia urbana e dell'economia rurale. Ho menzionato che ci sono una serie di flessibilità per coloro, sono sicuro che avete letto il testo della Convenzione, ci sono degli articoli dove si riferisce a delle disposizioni che devono essere prese laddove necessario o qualora rilevante e queste sono tutte delle flessibilità inclusa la definizione di molestie e violenze che anche quella vedremo in un secondo. Le responsabilità dei datori di lavoro sono quelle di adottare e attuare una politica a livello aziendale di prevenzione della violenza e delle molestie, di includere la violenza e le molestie nella gestione della salute e sicurezza sul lavoro, includendo una identificazione dei pericoli e un'analisi dei rischi e poi di adottare misure per l'informazione e la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori. Quindi, dicevo, i punti critici che sono stati ampiamente dibattuti e sono stati, come ho menzionato, oggetto di negoziazione e mediazione a livello internazionale. Innanzitutto la definizione. Ho visto anche dalle precedenti audizioni che avete discusso la definizione onnicomprensiva che, come vedete nello schermo, include una serie di pratiche o un insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili che possono essere posti in essere in un'unica occasione o ripetutamente e che possono comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico per le persone. Questa è la definizione che deve essere presa in considerazione. E quindi, in questa definizione, si ricomprendono tutti gli aspetti di violenza fisica, psicologica e sessuale. E questo è un po' anche l'elemento innovativo della Convenzione. Però, allo stesso tempo, perché c'è stata appunto una discussione e in particolare le rappresentanze datoriali che preferivano la definizione di due concetti separati di molestia e molestie, mentre, dall'altro lato, i gruppi governativi e le rappresentanze sindacali preferivano una definizione unica anche perché, diciamo, a livello internazionale non esistono definizioni separate. A livello nazionale dipende dai Paesi. Ciò che è definito molestia in un Paese e violenza nell'altro, ricatti sessuali e quant'altro. Abbiamo anche esempi nel nostro Paese di diverse definizioni. Però, diciamo, come elemento di flessibilità si è optato per dare, diciamo, lasciare la decisione allo Stato che ratifica se adottare un singolo concetto, quindi una singola definizione o due concetti differenzi. Quindi questa è la negoziazione se risolta e quindi l'adozione degli articoli della Convenzione sono quelli che trovate nel testo. Altro aspetto, diciamo, che è stato ampiamente dibattuto era il concetto di violenza e molestie di genere perché la Convenzione, appunto, dice che in questo ampio, nel contesto ampio delle violenze e delle molestie, poi, però, queste devono essere declinate sulla base del genere, cioè prendendo in considerazione, diciamo, le necessità delle persone in ragione del loro sesso o genere o perché subiscono le violenze in modo sproporzionato perché appartengono ad un sesso o a un genere specifico e quindi ricomprende la violenza e le molestie sessuali. In questo caso, diciamo, c'è stato un ampio dibattito perché si voleva procedere con la stesura di una lista di persone più esposte o più vulnerabili e questo ha, diciamo, portato a dissapori o comunque a dissentire certi gruppi regionali in particolare quando ci si riferiva o quando si si mettevano nella lista gli LGBT. Quindi questo, nei contesti internazionali diciamo, quando si parla di diritti umani questo è sempre, insomma, una discussione molto difficile. Comunque diciamo, si è optato attraverso la negoziazione per una definizione che prenda in considerazione tutte le lavoratrici e i lavoratori che sono più vulnerabili inclusi gli LGBT senza andare alla, diciamo, alla stesura di una lista che alcuni paesi ritenevano fosse anche potesse essere non esaustiva e comunque facilmente poteva divenire facilmente obsolete. Quindi questa è stata e quello che vedete nel testo dell'articolo 6 una definizione che riconosce che ci sono che le lavoratrici e che ci sono dei gruppi di lavoratrici e lavoratori che sono più esposti a violenza e molestie e quindi chiede agli Stati di prendere in considerazione e di adottare delle misure diciamo per prevenire e contrastare anche delle azioni positive in questo senso. L'altro aspetto era relativo appunto all'inclusione della violenza domestica all'interno della Convenzione e qui non voglio dilungarmi perché comunque questo è stato l'aspetto più ampiamente dibattuto e negoziato perché alcuni ritenevano che fosse non rientrasse nella loro responsabilità e nel loro controllo gestire insomma le ripercussioni delle molestie della violenza domestica invece altri in particolare diciamo alcuni i paesi e anche i gruppi in rappresentanza sindacale ritenevano che comunque ci dovessero essere almeno delle misure che ove ragionevolmente possibile questa è un'altra diciamo flessibilità in questo senso si potesse attenuare l'impatto della violenza domestica nel mondo del lavoro perché sappiamo che comunque c'è in termini di assenteismo in termini di perdita di produttività e quindi anche in termini di impatto economico per i datori di lavoro l'altro aspetto non mi dilungo perché ho visto che l'avete già dibattuto è appunto la definizione di soggetti protetti già dalla prima discussione il primo anno si è discusso e dibattuto diciamo tantissimo sulla definizione di lavoratore e di lavoratrice che è contemplata nella legislazione internazionale mentre non lo è quella di datore di lavoro e di dattrice di lavoro quindi tra l'altro ci sono delle categorie che non rientrano che sono nel mondo del lavoro ma che non rientrano nella definizione tradizionale di lavoratrice e lavoratore che è appunto la definizione tradizionale quella che rientra nel rapporto di lavoro subordinato con un contratto con diciamo modalità di organizzazione del lavoro e quant'altro e quindi si è optato anziché dare definizioni di lavoratrici di dare la definizione dei soggetti protetti e quindi come vedete nella lista qui ci sono degli esempi alquanto interessanti anche che ricordano degli episodi che sono successi in Italia mi viene in mente diciamo delle giovani ragazze studentesse che erano di 16 anni che erano in alternanza scuola lavoro e hanno subito diciamo violenze anzi addirittura violenza sessuale allora lì questo non è contemplato dalla legislazione del lavoro proprio perché si parla solo del rapporto tradizionale o mi viene in mente ad esempio un caso nello stato di New York negli Stati Uniti dove per gli stessi episodi il legislatore ha deciso di estendere tutte le provisioni della legislazione del lavoro su questo tema alle tirocinanti ai tirocinanti volontari persone informazioni e quant'altro quindi questo per dire che la definizione ampia di soggetti protetti ricomprende delle tipologie che diciamo sono sempre più presenti nel mondo del lavoro e insomma anche qui non mi dilungo con la negoziazione comunque i datori di lavoro hanno chiesto esplicitamente di avere anche tra i soggetti protetti gli individui che esercitano le funzioni e le attribuzioni di un datore di lavoro e di una dattrice di lavoro che è stato accettato quello che non è stato accettato è di considerare anziché gli individui le persone giuridiche e qui anche qui ci sono diversi cavilli legati ai diritti fondamentali che per brevità non menziono ma comunque un altro aspetto come ho già detto che si applica a tutti i settori è anche che devono essere prese in considerazione le violenze perpetrate o le vittime che sono soggetti terzi e questo anche è un fenomeno diciamo in continua crescita se pensiamo ad esempio nel settore del sanitario diciamo gli operatori e le operatrici sanitarie che sono vittime di molestie e violenza da parte dei familiari da parte dei pazienti e quant'altro insomma ecco o nel settore dei servizi ad esempio coloro che sono addetti ai servizi di front office e quant'altro infine questo ho detto anche che era uno degli aspetti lungimiranti e innovativi è appunto la definizione di mondo del lavoro come sappiamo la legislazione del lavoro definisce i luoghi di lavoro che sono anche quelli luoghi tradizionalmente dove si svolgeva in predominanza il lavoro quindi gli uffici le fabbriche e quant'altro però sappiamo che per effetto di una serie di mutamenti nel mondo del lavoro questi lavori queste professioni sono diciamo in costante diminuzione ci sono molte persone che lavorano da casa quindi fanno il telelavoro molte persone che viaggiano per lavoro e quindi se si voleva dare una sorta diciamo le protezioni minime e i diritti anche a queste categorie di soggetti era necessario avere una definizione più ampia di luoghi di lavoro e quindi questo è un po' vedete anche ricopre le case di molestia e violenza che diciamo avvengono in itinere quindi mentre si va al lavoro o quando si torna dal lavoro a casa ovviamente anche qui vengono calibrate quelle che sono le responsabilità del datore di lavoro e quelle che sono le responsabilità o comunque le competenze ad esempio delle autorità che si occupano di istituzioni di protezione sociale di assicurazioni sociali e quant'altro però chiede anche qui si chiede che il datore di lavoro utilizzi insomma tutti i mezzi che sono ragionevoli per diciamo assicurare che questo venga considerato almeno nel sistema di prevenzione dei rischi che ho menzionato prima vi faccio un esempio in Messico c'è un'area dove c'è una zona una zona franca Machillas dove le lavoratrici venivano uccise perché uscivano dal posto di lavoro alle 3 del mattino e quindi c'erano degli episodi di omicidio abbastanza significativi parte di questo c'è il fenomeno è stato attenuato mettendo a disposizione un bus navetta che portava le lavoratrici dalla diciamo dalla fabbrica al centro della città o insomma in prossimità delle loro case quindi questo per dire che ci sono delle diciamo degli strumenti abbastanza ragionevoli ma che permettono ecco in certi casi anche di salvare la vita o comunque di non sottoporre le lavoratrici e i lavoratori a episodi di molestia e violenza due solo due punti sui pilastri quindi l'approccio integrato l'ho menzionato prima quindi non solo un tipo di legislazione quindi la legislazione del lavoro senz'altro la legislazione sulla salute e sicurezza che abbiamo menzionato la legislazione sulla sulle pari opportunità e la non discriminazione e ovvero il caso la legislazione penale quindi questo diciamo configura l'aspetto diciamo integrato assieme alla definizione che permetterebbe a molti paesi di avere una diciamo una regolamentazione organica del fenomeno piuttosto che riferirsi o legiferare su una particolare categoria di lavoratrici e lavoratori penso ad esempio adesso in discussione un progetto di legge sulla violenza e le molestie per le operatrici e gli operatori del settore sanitario credo la commissione affari sociali allo stesso tempo la commissione lavoro discute una diciamo delle tipologie di violenza e molestie che è il mobbing invece la convenzione con la definizione con l'impianto abbraccia diciamo tutte queste tipologie questi sono i tre pilastri della convenzione penso che non ho più di non aver più tempo vi faccio solo vedere quali sono le disposizioni su ciascun pilastro ad esempio nella prevenzione e nella protezione la proibizione dei comportamenti ma anche l'adozione di politiche aziendali che abbiamo già visto e l'introduzione del rischio dell'analisi dei rischi specifici o relativi alla violenza e alle molestie nella salute e sicurezza nel mondo del lavoro so ad esempio che anche in Italia è in fase di diciamo revisione il testo unico sulla salute e sicurezza quindi sarebbe interessante ad esempio prevedere che nella valutazione dei rischi ci sia diciamo ci sia questo aspetto che viene valutato meccanismi di ricorso e risarcimento anche qua vedete un po' quelle che sono le tipologie è interessante anche avere diciamo questo impianto organico perché consentirebbe di anche alla giurisprudenza di avere degli orientamenti più precisi faccio un esempio le avance in alcuni casi sono stati classificati gli avance nel mondo del lavoro sono stati classificati dalla giurisprudenza come violenza privata e molestie private e quindi leva tutti gli aspetti come dire giuslavoristici la prevenzione ovviamente e anche i meccanismi di ricorso e risarcimento che potrebbero essere previsti se ci fosse questa organicità con le diverse parti di legislazione e poi un aspetto importante la formazione l'informazione delle lavoratrici dei lavoratori dei datori di lavoro e delle autorità pubbliche anche qui ad esempio coloro che raccolgono le denunce mi è stato detto che è un caso certo non posso generalizzare però una persona una lavoratrice che ha subito degli episodi di violenza e molestie ha dovuto studiarsi tutta la legislazione per poter essere in grado di far capire alle autorità che ricevevano la denuncia che si trattava di un episodio insomma quindi questo è importante ci sono delle persone per fortuna la maggior parte delle persone hanno gli strumenti però c'è tutta questa azione che potrebbe essere effettuata e potrebbe senz'altro aiutare a ridurre gli episodi o comunque le violenze e le molestie nel mondo del lavoro attraverso azioni di prevenzione ecco quindi mi fermo qua e rimango a disposizione per per qualsiasi domanda grazie grazie passiamo ora agli interventi vedo che la prima iscritta all'onorevole Boldrini a cui do la parola prego sì grazie signora presidente ringrazio sentitamente il dottor Rosas che è il direttore dell'ILO in Italia per questa presentazione molto esaustiva mi complimento perché ha toccato tutti gli ambiti più rilevanti e d'altronde questo si spiega dal fatto che lei ha partecipato ai lavori dell'assemblea e dunque ci ha dato anche qualche insight riguardo agli sviluppi e anche ai punti critici su cui i rappresentanti degli stati membri si sono confrontati sì io penso che avendo lavorato 25 anni alle Nazioni Unite penso che questa convenzione abbia del miracoloso perché riuscire a mettere d'accordo gli stati su concetti che seguono sensibilità diverse a seconda della collocazione geografica degli stati stessi e degli ordinamenti giuridici è veramente un esercizio estremamente complicato e complesso dunque io mi congratulo con l'ILO per aver voluto perseverare e essere andato fino all'epigolo felice diciamo di questo esercizio ecco lei l'ha detto molto bene quali sono gli elementi innovativi che mi hanno peraltro molto colpito proprio perché vanno oltre diciamo le tutele che anche il nostro ordinamento prevede perché il nostro ordinamento è uno dei più avanzati in materia giuslavorista abbiamo una legislazione molto progredita diciamo e dunque il fatto che questa convenzione vada oltre significa che ha un peso consistente immagino quanto lo abbia per i paesi che invece non hanno il nostro stesso sviluppo in tema di legislazione del lavoro però ciò nonostante noi andiamo oltre con questa convenzione per questo è importante che il nostro Parlamento riesca quanto prima a essere tra diciamo il gruppo di testa di chi arriverà alla ratifica proprio perché risponde all'evoluzione del mercato del lavoro questa convenzione è contemporanea include quei soggetti che nella nostra legislazione più ancorata a un tempo specifico diciamo lo statuto dei lavoratori rappresenta uno spartiacque incredibile no? e è stato un faro per decenni per la nostra legislazione in materia di lavoro non prevede alcune tutele perché all'epoca non c'erano queste tipologie di lavoro quindi il fatto che i luoghi di lavoro oggi siano considerati anche quelli non tipicamente previsti e nell'immaginario consolidati dà una marcia in più a questa convenzione quindi è anche chi lavora viaggiando chi lavora da casa chi lavora nelle varie accezioni contemporanee del lavoro così come i soggetti protetti lo trovo assolutamente positivo il fatto che anche non so persone tirocinanti volontari partite IVA cioè persone che oggi lavorano in modo diverso rispetto a trent'anni fa possano avere delle tutele in questo senso io volevo farle una domanda in merito ai lavoratori e le lavoratrici domestiche cioè noi sappiamo bene che quell'ambito domestico della casa spesso è un luogo dove vengono portate avanti molte pressioni che a volte sfociano nelle molestie e nelle violenze donne che si occupano dei nostri genitori anziani ma anche dei nostri figli piccoli e che sono sottoposte a volte a dei trattamenti molto umilianti lavorano in ambito domestico ecco io vorrei da lei qualche ragguaglio in più sulle tutele previste se sono previste anche per chi lavora in ambito domestico perché non c'è solo la violenza domestica che ha ripercussioni nel mondo del lavoro c'è anche la violenza domestica di chi lavora in casa e quindi su questo io le sarei grata se potessi avere una delucidazione grazie grazie ci sono altri interventi da parte dei colleghi se non ci sono interventi darei la parola al dottor Rosas prego grazie onorevole Boldrini vorrei innanzitutto dire ricollegarmi a quello che diceva lei che per l'adozione della diciamo delle convenzioni ci sono dei tempi tecnici quindi è necessario qualche mese come voi ci insegnerete per procedere alla ratifica però questa convenzione già molti paesi hanno già attivato come l'Italia il processo di ratifica e tra l'altro molti paesi la stanno già utilizzando per nell'elaborazione di testi di legge di insomma di regolamenti e addirittura ad esempio penso ad esempio la Spagna che sta adottando o che ha adottato una legislazione sul cyberbullying sul cyberbullismo che ha appunto affrontato anche il cyberbullismo come violenza e molestia nel mondo del lavoro penso alla Francia che anche ha diciamo in fase di revisione o alla Svizzera della legislazione su violenza e molestia e già si sta riferendo alla convenzione o in Argentina ad esempio i magistrati giudici hanno utilizzato chiedo scusa la definizione della convenzione in un caso di violenza e molestia per una persona appartenente alla comunità LGBT quindi e l'Uruguay ha già terminato la procedura di ratifica interna e sta depositando lo strumento di ratifica presso la nostra sede di Ginevra quindi è una senz'altro una convenzione che ha interessato e attirato l'attenzione di molti paesi e questo l'abbiamo visto in sede della conferenza e insomma ci aspettiamo e ci auguriamo che ci siano quanto più ratifiche possibili da un lato anche la mobilitazione che c'è in Italia sono contento che ci siano le mie colleghe dell'Udi diciamo riproduce un po' la storia nel processo di adozione della convenzione sulla parità salariale la convenzione numero 100 che è stata adottata nel 1957 grazie anche all'azione delle associazioni femminili e in particolare dell'Udi e attraverso quella l'adozione di quella convenzione e questo mi preme sottolinearlo si è dato modo si è iniziato ad attuare l'articolo della costituzione l'articolo 37 che nonostante fosse entrato in vigore nel 1948 non era stato interamente attuato sulla parità di sulla parità di trattamento sulla parità salariale tant'è vi faccio un esempio che diciamo attraverso l'adozione della convenzione si è dato mano alla revisione di una serie di dispositivi di leggi come quello ad esempio che stabiliva un reggio decreto degli anni 30 che era in vigore fino al 64 che stabiliva che le braccianti agricole dovessero ricevere un compenso o un salario che era il 60% dei braccianti quindi questo è stato un impatto della convenzione e mi preme menzionarlo perché molto spesso si sente anche parlare in diversi anch'io come lei sono stato lavoro da 25 anni alle Nazioni Unite e ho sentito in molti contesti dire ah vabbè ratifichiamo se la legislazione nazionale è conforme l'obiettivo della convenzione è esattamente l'opposto all'azione propulsiva di guidare diciamo nella trasposizione degli enunciati adottati o delle norme minime adottate in sede internazionale nella legislazione nazionale lavoratori e lavoratrici domestiche in realtà la convenzione che è stata adottata prima di questa convenzione è sul lavoro dignitoso delle lavoratrici e i lavoratori domestici ed è una delle poche convenzioni dell'OIL che fa un riferimento specifico e ha delle previsioni sulla violenza e le molestie delle lavoratrici e dei lavoratori domestici quindi se la sua domanda rispondo positivamente alla sua domanda nel senso che sono contemplati dalla convenzione è un settore dove c'è una alta incidenza parlavo delle operatrici e operatori sanitari il lavoro domestico è un settore diciamo ad alta incidenza di violenza e molestie quello senz'altro sono contemplati e sono contemplati quindi questo dovrebbe essere preso in considerazione nella trasposizione della convenzione perché purtroppo nonostante la convenzione 189 abbia avuto l'obiettivo principale di considerare lavoratrici e lavoratori domestici come tutti gli altri lavoratori e lavoratrici perché in molti paesi esiste un regime di esenzione e sono esclusi dalla legislazione del lavoro o dalla legislazione sulla salute e sicurezza quindi quella convenzione ha dato pari dignità e sono più l'Italia è stato il primo paese europeo a ratificare la convenzione e adesso ha più di 50 ratifiche ma ha avuto un impatto sulla legislazione e sulle politiche di una novantina di paesi quindi è senz'altro un settore ad alta incidenza difficile più difficile rispetto ad altri perché la prestazione lavorativa si svolge all'interno delle diciamo delle mura o all'interno della casa però senz'altro diciamo l'impianto della convenzione si applica in toto alle lavoratrici e ai lavoratori domestici grazie grazie io ringrazio il dottor Rosas per il suo intervento passiamo ora all'audizione informale della dottoressa Tola e la dottoressa Castelli che invito qua tanto ringrazio il dottor Rosas grazie con l'audizione dell'unione delle donne italiane con la dottoressa Tola e la dottoressa Castelli anche qui abbiamo circa 45 minuti per gli interventi e poi per le domande come già detto prima secondo il parere dell'aggiunta per il regolamento le adizioni informali possono essere trasmesse attraverso la web tv della Camera dei Diputati con il consenso degli auditi quindi se le audite consentono trasmettiamo sulla web tv quindi dispongo l'attivazione prego a voi la parola grazie Presidente grazie alla Commissione per l'audizione grazie alla Presidente Boldrini per aver presentato la proposta di ratifica della Convenzione ILO a noi questo strumento sembra straordinariamente importante e nonostante poi la mia collega dirà che cosa abbiamo trovato come esperienza nella legge di azione già esistente in Italia a proposito delle molestie e delle discriminazioni la questione della Convenzione ILO proprio per la qualità con cui non solo definisce il problema ma anche come lo allarga alla dimensione contemporanea come si diceva prima ci sembra di particolare importanza perché noi che da tanti anni da tanti decenni potrei dire parliamo molto di violenza e cerchiamo di fare tutto quello che è possibile per fare in modo che tutto la situazione lo Stato le istituzioni le leggi si attrezzino sia sul riconoscimento della violenza contro le donne sia per quanto riguarda appunto la prevenzione e anche le riparazioni che sarebbero giuste e necessarie in questo ambito da molto tempo vediamo come nell'ambito delle molestie e dedicati nei posti di lavoro perché noi li abbiamo sempre definiti così il problema invece come dire è sempre molto difficile da affrontare nel 80 87 ci fu una risoluzione del Parlamento europeo che era la risoluzione Rubinstein che cercava di affrontare questo problema nei confronti appunto degli stati degli stati membri allora la questione delle molestie e dei ricati fu definita come il segnale debole della violenza e veniva affrontata soprattutto appunto dal sindacato in ambito che riguardavano sia le fabbriche metalmeccaniche che furono le prime ricerche poi naturalmente il pubblico impiego e in particolare la questione della sanità la stessa ricerca istade che prima veniva ricordata comincia esattamente dieci anni dopo perché la difficoltà di poter affrontare e conoscere il problema era una cosa che riguardava anche il nostro istituto statistico quindi questo segnale debole della violenza che aveva a che fare non solo con la condizione interna al luogo di lavoro ma spesso anche la questione della possibilità di essere riconosciute come sulla base proprio della propria dignità era una questione molto è stata sempre una questione molto complicata questa per questo dico la commissione la commissione ilo come diceva prima il dottor rosa già appena è uscita ha fatto muovere una serie di realtà noi nel nostro piccolo per esempio abbiamo lanciato una petizione nazionale che è partita da Modena ed è partita dal fatto che il dato delle denunce che veniva prima ricordato e che è assolutamente non reale perché le donne che denunciano sanno perfettamente a che cosa vanno incontro e lo sanno non solo nelle condizioni più strutturate ma lo sanno nelle condizioni per esempio del lavoro domestico e lo sanno anche nelle condizioni del lavoro per esempio agricolo da questo punto di vista noi abbiamo una serie di segnalazioni che spesso e volentieri non sappiamo come affrontare Modena da che cosa è partita è partita da una cosa apparentemente banalissima una ragazza che aveva partecipato a dei corsi quando era ancora a scuola quindi prima della maturità per sulla sensibilizzazione della violenza e soprattutto su che cosa nell'ambito del lavoro bisognava aspettarsi come pregiudizi e stereotipi una volta entrati nel mondo del lavoro si è rivolta all'Udi di Modena segnalando che lei era entrata in un posto di lavoro anche part time e immediatamente si era trovata davanti a delle molestie molto forti ma oltre il problema del rapporto col molestatore la condizione era il luogo di lavoro dove sia il datore di lavoro sia i colleghi come dire facevano finta di non vedere e di non sentire lei questa cosa l'ha fatta presente e l'Udi d'accordo con i sindacati interni e col datore di lavoro ha chiesto di affrontare la questione proprio come responsabilità del datore di lavoro e come responsabilità appunto della sicurezza e della salute all'interno del posto di lavoro si sono fatti degli incontri e la cosa straordinaria è stata che a quel punto l'incontro fatto ha cambiato completamente la situazione perché anche i colleghi oltre i superiori si sono resi conto che i danni proprio psicofisici in questo caso della ragazza diventavano responsabilità responsabilità di tutti lei non è arrivata neanche alla denuncia continua a lavorare ma la condizione di lavoro in quella situazione sono completamente mutate questo significa che la consapevolezza la conoscenza e la responsabilizzazione come veniva detto prima sono una questione verimente importantissima perché fino a quando appunto le molestie in entrata nel posto di lavoro durante la situazione del posto di lavoro sono considerate un problema personale un problema privato finiamo sempre nella situazione del fatto di non considerare tutte le forme di violenza come una questione appunto strutturale per questo la convenzione Eilo nel collegamento con la convenzione di Istanbul diventa una cosa importantissima perché appunto ribadisce quello che la convenzione di Istanbul ha detto con grande chiarezza e cioè che tutte le forme di violenza sono una dimensione strutturale che va assolutamente contenuta contenuta e sconfitta questo quindi per noi diventa diventa importante anche nella definizione che nella convenzione Eilo è innovativa rispetto alla legislazione italiana cioè il fatto di considerare la molestia come un fatto inaccettabile al posto della questione indesiderabile come è posta nella legislazione italiana apre un altro fronte ancora io però su questo lascerei la parola a Alida Castelli Vi ringrazio ringrazio tutti voi la Presidente l'Onorevo Boldrini che ha presentato questa proposta di legge non ripeto le cose che ha detto la mia collega Vittoria Tola volevo solo sottolineare alcune problematicità nel senso che va ben definito che cosa significa comportamento inaccettabile o comportamento indesiderabile perché se non siamo molto precisi poi su questa definizione rischiamo che poi in sede giuridica le cose non vengano apprezzate come devono essere e valutate come devono essere valutate ma volevo fare un passo indietro dicendo che il ricepimento della convenzione che io auspico assolutamente insieme alla raccomandazione deve essere solo considerato un primo passo perché se poi noi non andiamo a far ricadere queste definizioni queste raccomandazioni nella legislazione di tutti i giorni il ricepimento diventa un bellissimo punto di riferimento per chi vuole considerarlo ma non ha una vera ricaduta uno dei punti che mi stanno più a cuore è proprio quello della modifica come veniva già detto qui della legge 81 quello sulla sicurezza nei luoghi di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro perché attraverso questa introduzione di questo concetto a ricaduta immediata forse uno non ci pensa immediatamente rispetto alle possibili ricadute immediate come voi sapete comunque la formazione sui temi della salute e la sicurezza in luoghi di lavoro è obbligatoria sia per tutti i lavoratori per i datori di lavoro ma anche per gli apprendisti ma anche per qualunque persona che frequenti un corso di formazione organizzato dalle regioni allora noi ad esempio nella petizione che abbiamo raccolto sulla quale stiamo raccogliendo le firme a Modena già intendiamo muoverci rispetto all'assessore alla formazione e ai presidenti delle singole regioni perché è proprio nella declinazione dei regolamenti obbligatori su delle tematiche che altrimenti rimangono sempre un po' isolate e noi lo sappiamo benissimo risultano poi prerogativa soprattutto della parte femminile del mondo del lavoro e anche delle organizzazioni sindacali allora io direi diciamo che queste ricadute sono assolutamente fondamentali importanti e quindi il ricepimento della convenzione della raccomandazione è un primo importantissimo passo ma è un primo passo rissottolineo la problematicità della bellissima definizione secondo me di molestie nei luoghi di lavoro contenuta nella convenzione perché rispetto alla parola inaccettabile o indesiderabile come già viene detto nel nostra legislazione perché le molestie sessuali nei luoghi di lavoro sono considerate comunque discriminazioni e per fortuna la giurisprudenza ha colmato quel vuoto permettendo che venisse invertito l'onere della prova come per tutte le altre discriminazioni contenute nel codice delle pari opportunità rispetto alla rilevanza del problema io credo che sia molto più presente di quanto noi possiamo immaginare e anche allargare così diciamo la definizione di luogo di lavoro ammodernandola ai nostri cambiamenti mi sembra fondamentale ma voglio solo ricordare che qui noi abbiamo un'incidenza fortissima di moleste e moleste sessuali perché ci sono tutte e due nei luoghi di lavoro soprattutto grazie e purtroppo all'esplodere anche del lavoro precario e non voglio nemmeno parlare del lavoro nero io ho fatto per 14 anni la consigliera di parità della regione Lazio e vi assicuro che su questi temi era sempre molto difficile intervenire primo perché non c'era ancora l'inversione dell'onere della prova come entrato poi attraverso la giurisprudenza nel nostro ordinamento ma anche perché a volte erano poco dimostrabili forse il fenomeno del MeToo ha fatto emergere un po' di più l'attenzione rispetto a questo ma è sembrato comunque qualcosa che riguardava solo certi tipi di lavoratrici e non tutte le lavoratrici e quindi ripeto è difficile entrare in questo campo io auspico come credo sia normalissimo ma voglio essere un po' pessimista auspico una grande attenzione nel recepimento sia della definizione ma che poi anche nel recepimento di tutte le misure successive ma per adesso casomai risponderò a qualche domanda grazie grazie ora i colleghi se qualcuno chiede di intervenire apriamo agli interventi l'onorevole Buldrini prego stino intervenire allora io ringrazio molto l'Udi dottoressa Tola e Castelli per quello che ci hanno esposto ringrazio per l'impegno dell'Udi decennale impegno dell'Udi su le questioni che riguardano il femminile in generale e le discriminazioni in particolare ecco a me è piaciuta molto la sottolineatura che è stata fatta dottoressa Tola sul fatto che la molestia come la violenza non è un fattore privato e questo è lo spartiacque che ci ha portato alla convenzione di Istanbul dunque violenza e molestie non sono da trattare in casa come i panni sporchi si lavano in casa ma sono ambiti in cui lo Stato ha delle responsabilità trattandosi di violazione dei diritti umani della persona quindi questo è stato fondamentale averlo introdotto a livello internazionale con la convenzione di Istanbul e dunque poi negli ordinamenti nazionali ecco io mi pare di capire che anche per voi la convenzione abbia una connotazione completamente positiva io magari chiederei un qualche delucidazione per tutti noi alla dottoressa Castelli in merito alla diceva l'inversione dell'onore della prova che è stato introdotto nel codice delle pari opportunità io vorrei che magari se fosse possibile appunto dare qualche elemento aggiuntivo in merito al codice delle pari opportunità diciamo le innovazioni che questo codice apporta e come la convenzione va anche oltre a integrare una comunque una legislazione già diciamo favorevole e quindi le innovazioni del codice e soprattutto come il codice oggi sarebbe superato da questa convenzione grazie mi sono sicuramente spiegata male ma non credo che il codice viene superato il codice deve recepire a sua volta nei vari articoli che riguardano le discriminazioni questo tipo di concetti che vengono rappresentati dalla convenzione la questione dell'inversione dell'onere della prova è stata risolta solo con delle sentenze della Cassazione perché tutte le discriminazioni contenute nel codice cito a memoria mi sembra l'articolo dal 26 in avanti adesso posso sbagliarmi ma comunque dove ci sono tutte le definizioni di discriminazioni nel mondo del lavoro i primi due articoli riguardano le molestie e le molestie sessuali nel mondo del lavoro per questi due articoli non veniva applicata l'inversione dell'onere della prova come per tutte le altre discriminazioni e la Cassazione recentemente tra l'altro ha messo un freno proprio a questo diverso trattamento di discriminazioni allora intanto sarebbe importante renderlo magari più esplicito anche a livello legislativo io mi sarei augurata che quando due anni fa è stato presentato il famoso emendamento che anche l'onorevole Boldrini cita nella sua relazione il famoso emendamento alla legge di bilancio che a mio parere io non sono piuttosto brusca era un emendamento quasi inutile per certi versi l'ho trovato quasi negativo perché metteva dal punto di vista ad esempio aver messo sullo stesso piano sia le molestie da parte di chi le subiva ma poi nello stesso tempo venivano subito ribadite le denunce penali per diffamazione per chi avesse ad esempio denunciato in maniera sbagliata erano inutili perché il codice penale prevede già questo tipo di sanzioni quindi ecco perché ho paura a volte quando vedo toccare le leggi senza troppa attenzione sulle conseguenze che vengono poi effettivamente chi si trova a lavorare con il codice con le donne con le organizzazioni delle donne poi si trova davanti a dei problemi perché non sa più come giustificare il proprio intervento ha chiesto intervenire l'onorevole Quarta Pelle ringrazio anch'io Ludy per questa audizione molto utile anche diciamo per capire in concreto che cosa poi cambia con con l'adozione della convenzione su questo vorrei fare una domanda proprio perché diciamo noi ratifichiamo una convenzione che però richiede un adeguamento della normativa interna che tipo di adeguamenti voi immaginate ulteriori oltre alla ratifica cioè io immagino che per esempio la definizione essendo diritto internazionale diventa sovraordinata quindi si passa da indesiderabile a inaccettabile automaticamente senza bisogno di modificare la normativa interna ma che tipo di interventi di adeguamento voi immaginate e immaginate in senso prioritario si devono si possono fare tante cose immagino uno dei primi passaggi è sicuramente il recepimento di questa convenzione e parte della raccomandazione come revisione del decreto 81 salute e sicurezza nei luoghi di lavoro perché credo che questo è proprio uno dei punti la sicurezza nei luoghi di lavoro ma anche così come è stata modificata anche non molto tempo fa dove si parla anche di benessere organizzativo benessere del lavoratore credo che il primo punto è non subire né molestie né molestie sessuali perché io manterei questa doppia definizione nello stesso tempo nel momento in cui come auspico venga recepita la direttiva e successivamente modificate le nostre leggi io metterei anche in luce dove a volte le molestie le molestie sessuali vengono giustificate come un comportamento che permette la carriera delle donne e questo intanto sappiamo se ne parla sempre e allora io credo anche quel punto vada un attimo approfondito dicendo ad esempio che questo tipo di molestie che le molestie le molestie sessuali hanno una connotazione forte di discriminazione anche se chi ha esercitato questa molestia o molestia sessuale non era comunque in grado di garantire quell'avanzamento di carriera che ad esempio veni prometteva pur di poter avere rapporti sessuali o quant'altro vi faccio l'esempio c'è stata una sentenza di un tribunale pugliese nel quale una lavoratrice una dipendente pubblica addirittura ha denunciato il suo collega superiore di grado per aver lei ceduto alle avance di questa persona e questa persona però poi in cambio le avrebbe promesso un trasferimento la persona denunciata non è stata condannata perché ha dimostrato di non avere nessuna possibilità per il suo reale ruolo di fare trasferire questa persona allora ecco perché io credo che dovremmo dire che è sempre discriminazione a prescindere se il risultato promesso sia stato ottenuto o non ottenuto ma solo per il fatto di aver accettato o non accettato i comportamenti indesiderati perché altrimenti cadiamo dalla padella alla brace purtroppo questa persona venne assolta è stato recuperato un po' questo concetto in alcuni codici di comportamento delle aziende e anche questo credo che attraverso una campagna di sensibilizzazione anche su questa convenzione la modifica dei codici di comportamento codici etici di comportamento nelle aziende potrebbero dare una mano al benessere di tutti i lavoratori e delle lavoratrici non è legislativa ma che comunque è di grandissima importanza politica la convenzione ILO ratificata dopo naturalmente la convenzione di Istanbul pone delle nuove esigenze per esempio per i piani nazionali contro la violenza e pone naturalmente dei problemi a livello dei piani regionali perché sappiamo benissimo che in Italia tutta la parte che riguarda non solo l'aiuto alle vittime di violenza attraverso per esempio una serie di servizi ma anche il problema della formazione e il problema della prevenzione quindi torniamo al problema importantissimo dell'informazione che nella convenzione è previsto e che deve essere fatta in modo tale che possa raggiungere veramente la stragrande maggioranza delle persone di qualunque età ma appunto poi la formazione successiva e chi è deputato a fare la formazione a tutti i livelli con questa nuova convenzione deve assolutamente trovare il modo di allargare la sua azione e di creare formatori formatrici ma comunque progetti di formazione che siano assolutamente coerenti con quanto la convenzione il oltre che Istanbul presuppone grazie ci sono altri interventi mi sembra ci siano altri interventi allora io ringrazio nuovamente dottoressa Tola dottoressa Castelli per essere qui state con noi per averci aiutato in questo importante passaggio e passerei ora all'audizione dell'Unione Generale del Lavoro rappresentata dalla dottoressa Petillo anche la dottoressa Iori scusate non la vedo qua anche la dottoressa Grazie. Grazie Presidente. Buon pomeriggio e grazie per questa audizione. Per l'Unione Generale del Lavoro questa audizione è molto importante perché abbiamo, dall'approvazione della Convenzione, intrapreso una campagna affinché fosse raffetificata. Questa campagna adesso si è sviluppata, infatti ho mandato un piccolo documento alla Segreteria, con una raccolta firme. E quindi siamo pienamente convinti che sia importante e necessario che ci sia questa ratifica. Io ho avuto modo di ascoltare anche le altre audizioni che sicuramente hanno fatto uno spaccato veramente importante. E quindi vorrei focalizzarmi su quello che noi, come Unione Generale del Lavoro, abbiamo attenzionato maggiormente. Fermo restando che siamo pienamente convinti che questa Convenzione abbia un'incidenza, nel momento in cui viene ratificata e poi accascata, inciderà sulla normativa italiana, abbia un'incidenza soprattutto sulle lavoratrici, sulle donne. Noi abbiamo analizzato questa Convenzione che viene declinata con delle parole e delle analisi che sono illuminanti, non perché la nostra normativa non contenga delle cose all'avanguardia, assolutamente, ma perché incomincia a dare un perimetro in cui lavorare bene. Cioè noi abbiamo tutta una normativa frastagliata, dove una giurisprudenza illuminata molto spesso ci dà l'opportunità, per fortuna, di poter ancorare le cose che noi decliniamo continuamente nei convigni, nelle leo. Ma spesso non lo fa, nel senso che noi lasciamo a casa tantissime persone che sono molestate e discriminate sui luoghi di lavoro. E questo ci sembra veramente importante perché ci obbliga a incominciare a collocare, ma dove la vogliamo collocare la violenza e le molestie sui luoghi di lavoro? Che livello di interesse abbiamo verso questo argomento? Ecco, questa è la domanda che ci siamo chiesti. E abbiamo, noi stiamo facendo da diversi anni, una fortissima campagna per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Riteniamo che non possiamo, soprattutto alla luce dei nuovi lavori, cerco di sintetizzare perché vorrei rimanere attenzionata sull'argomento, che dobbiamo decodificare nuove tipologie di sicurezza del lavoro, il lavoro agile, ha tantissime carenze per quanto riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro. Ecco, e allora noi stiamo facendo quest'analisi, ci stiamo impegnando affinché vengano decodificate tutte queste parti. Anche qui abbiamo ritenuto che la Convenzione fosse un momento per chiarire all'interno del testo unico della sicurezza sui luoghi di lavoro un capitolo che è lasciato generico. Perché noi dobbiamo incominciare ad entrare nei luoghi di lavoro, noi sindacalisti, e pretendere che nell'ambito della valutazione dei rischi che si fa nelle aziende ci sia questo argomento come argomento principale. Abbiamo bisogno di un ancoraggio. Noi abbiamo fatto dei protocolli con delle aziende e con datori di lavoro, ma diciamo che sono utilissimi. Però hanno un'incidenza laddove c'è già la possibilità di poter ragionare con il datore di lavoro e anche con i lavoratori su questo argomento, lasciando a casa la maggior parte delle persone. Avere la possibilità di avere matrici di analisi, dove ci si può, ripeto la parola, ancorare, significa avere delle metodologie che ci aiutano a trasmettere che cos'è la violenza sui luoghi di lavoro, che cos'è una molestia, la differenza tra le molestie. Perché ci sono valenze di tipo sessuale, ma ci sono anche violenze non di tipo sessuale. C'è un bullismo all'interno dei luoghi di lavoro, che deve essere considerato. Quindi dobbiamo capire come trovare questi elementi, come costruire un paradigma di analisi. Come gli avvocati, quando vanno dal giudice e difendono un lavoratore o una lavoratrice, hanno la possibilità di ancorarsi sia al codice penale, sia al codice del lavoro, sia alla sicurezza sui luoghi di lavoro. La Convenzione su di Istanbul, noi facciamo una autocritica, perché la facciamo spessissimo noi sindacati, anche se non sembra. Perché purtroppo, insomma, ce lo siamo scelti come nostra mission sociale, siamo a contatti con le persone più fragili. E queste persone più fragili ci rimproverano spessissimo che noi abbiamo delle parole aleatorie, del qualche cosa, cioè viviamo sui sogni. Non riusciamo a stare molto nelle aziende. Questo, vi devo dire la verità, ci umilia. Molto spesso cerchiamo di dire, ma non è vero, abbiamo bisogno anche di poter rappresentare determinate cose, abbiamo bisogno della convegnistica, della sensibilizzazione. E ci dicono che non basta. Dobbiamo recuperare un contatto reale. Noi abbiamo casi di donne, la maggior parte sono donne, in aziende del Casertano, dove ci sono i lavori stagionari, dove se la lavoratrice non ha un percorso di simpatia nei confronti di chi poi deve rinnovargli il contratto, non gli viene rinnovato. Ed è una cosa di una tristezza infinita. È una cosa di una tristezza infinita che anche a noi non ci abituiamo mai a questa roba. E quindi abbiamo focalizzato l'attenzione sul testo unico della sicurezza sui luoghi di lavoro, che coincide perfettamente. Noi abbiamo lanciato questa petizione, vi invito a vederla. Mi farebbe piacere anche una vostra firma. Non voglio pubblicizzare le cose, però visto che stiamo nell'ambito della ratifica, mi farebbe tanto onore. E nella declinazione di quello che noi vogliamo, perché la ratifica della Convenzione non deve rimanere... Consentitemi queste parole, sono un po' forti, forse inappropriate al luogo sacro di questo momento, ma non devono essere passerelle. Non ce lo possiamo permettere. Non possiamo dire solamente abbiamo recepito la Convenzione. La Convenzione di Istanbul ha avuto delle criticità proprio per questo. Anche nei piani di azione della violenza ha avuto delle criticità, perché non è stata, nell'ambito poi della ricaduta normativa, recepita nella maniera giusta. E non ce lo possiamo permettere. Sentivo prima che la Convenzione avrà una ricaduta sicuramente nei piani di azione positiva. Nelle pubbliche amministrazioni non è per niente menzionato quello che è la sicurezza sui luoghi di lavoro per quanto riguarda le molestie e le violenze. E non sto parlando solamente di donne. Bisogna, io scrivo, scriviamo in un... Lo cito non vorrei che mi sfuggisse qualche cosa. Per affrontare e arginare il fenomeno bisogna innanzitutto comprenderlo nei vari aspetti in cui si manifestano le molestie e le violenze. Bisogna saper distinguere tra quelle interne fatte da colleghi o superiori e quelle subite da operatori durante il lavoro come gli operatori sanitari, gli autisti, i controllori del trasporto pubblico, gli insegnanti. Un lavoratore aggredito su quattro opera nella sanità e assistenza sociale dove le condizioni di forte stress fisico e psicologico dei pazienti e dei loro familiari possono provocare reazioni violente nei confronti del personale. Non dimentichiamo che la pubblica amministrazione sta avendo una carenza di personale. Il personale, i lavoratori sono sovraccaricati, sono sovrastressati, soprattutto in alcuni ambiti. Ci sono i vigili, le guardie giurati, conducendite autobux e taxi, il personale della scuola. Tra gli aggrediti il 39% è una donna, con punte dell'85% nella scuola e del 71% nella sanità. Questi sono dati INAIL. In bledmatico il caso di Serafina Strano. La dottoressa, aggredito e stuprata, il 18 settembre del 2017, durante il suo turno nell'ambulatorio, una donna sola in un ambulatorio, non c'era nessuna pratica di prevenzione, e la dottoressa sembrerebbe che non abbia avuto diritto a nessun indennizzo, anzi il delitto subito è stato identificato come un semplice sinistro. Io non lo dovrei approfondire perché le ultime mie conoscenze sono in merito a questa cosa. Quindi ritengo molto positiva la ratifica della Convenzione. Sia stimolo di una riflessione ancora più profonda per poter non essere una ratifica fine a se stessa, messa lì e dichiarata solo come qualcosa che ci fa essere primi come nazione. Non è quello che cerchiamo. Noi cerchiamo una revisione del codice delle pari opportunità, anzi uno stravolgimento del codice delle pari opportunità. Non serve più a niente. Le consigliere di parità sono, io credo che l'abbiate audita, sono persone che lo Stato ha come lavoro nero. I compiti delle consiglieri di parità, se noi avessimo un lavoratore che dobbiamo difendere e c'è la declinazione dei compiti che ha, è gratis, è fuori luogo. Significa che o fa altro, e non credo che per la maggior parte delle persone che io conosco fanno altro, anzi si dedicano moltissimo, oppure si sacrificano talmente tanto, però non hanno le condizioni per operare bene. il comitato di pari opportunità. Cioè c'è bisogno di questa revisione, c'è bisogno di questa presa in carico di un'analisi che sia più profonda, più approfondita. ed è fondamentale, siccome noi abbiamo una normativa importante, andare ad incidere su questa normativa significa in questo momento fare un cesello. E questo è il primato che deve appuntarsi l'Italia. cioè deve appuntarsi il primato dell'adeguamento della normativa. Questa è la cosa più importante. Grazie. Grazie. Passiamo anche qui agli interventi da parte dei colleghi. L'onorevole Boldrini. Prego. Grazie signora Presidente. Ringrazio molto la dottoressa Petillo per questa presentazione. Capisco anche il suo scetticismo in merito a una mera ratifica che rimarrebbe solamente come una medaglia sul petto ma nulla di più. Le assicuro che per quanto mi riguarda non è questo l'intento. Bensì questo è il passaggio necessario per riuscire a dare più corpo a una normativa che sulla carta funziona ma in pratica molto di meno. Io penso che lei abbia ragione quando dice che le consigliere di parità che avrebbero un ruolo fondamentale nelle cause del lavoro oggi non hanno più facoltà neanche di lavorare perché il fondo a loro disposizione dipende dal buon cuore della provincia o della regione. e dunque la loro funzione svilita con una indennità di 68 euro al mese lorde è veramente umiliante svolgere un'attività così impegnativa. Lo fanno solo per passione, evidente. Ma questo che significa? Il fatto che non abbiano più fondi a disposizione perché le province o le regioni vanno a tingere da lì e non lo considerano più un fondo da alimentare ma da saccheggiare e il fatto che le loro indennità siano assolutamente irrilevanti quasi umilianti dimostra la mancanza di impegno politico cioè non c'è la volontà politica di fare sul serio su tutto quello che riguarda la disuguaglianza di genere e la violenza di genere perché vuol dire che non è considerato prioritario se lo fosse si troverebbero i fondi a sostegno delle cause del lavoro per le lavoratrici discriminate se lo fosse le indennità delle consigliere di parità sarebbero dignitose il fatto che non lo sono vuol dire che tutto questo al di là dei buoni intenti non è considerato prioritario e questo richiama in questione molto la politica e anche noi donne che probabilmente non siamo riuscite negli anni a portare avanti queste questioni con sufficiente determinazione vuol dire che c'è una politica sorda alle stanze della parità che dovrebbero invece essere di interesse comune perché quando le donne vanno avanti è il paese che ci guadagna ma ancora questa nozione semplice, fondamentale sembra non essere alla portata e dunque si continua con trascurare questo capitale umano quindi la vicenda della Serafina Strano la dottoressa del pronto soccorso che lei ha menzionato è una vicenda agghiacciante io invitai Serafina Strano nella scorsa legislatura a venire per il 25 novembre in aula insieme a altre 1.400 donne che avevano subito violenza insieme alle magistrate che le avevano sostenute alle avvocate, alle forze dell'ordine Serafina Strano prese la parola in quell'aula era successo da poco che era stata violentata mentre svolgeva il suo lavoro ebbe il coraggio di alzare in piedi parlare in diretta nazionale lo fece una donna di grandissimo coraggio è vero, non ha ricevuto neanche il risarcimento è incomprensibile ho segnalato questa cosa anche all'attuale ministro Speranza per verificare come mai si sia potuto arrivare a questo quindi io ritengo che ci sia bisogno da tutte le parti politiche di investire di più e con più convinzione in questo e mi auguro che la ratifica sia pur necessaria sia evidentemente solamente il passaggio necessario per aggiornare poi la nostra legislazione che comunque al di là di tutto è paragonata a quella di altri paesi è comunque avanzata perché l'Ilo agisce a livello globale e se per noi è innovativa immaginiamoci per alcuni paesi del sud del mondo quanto lo sia quindi volevo dirle che da parte nostra c'è la consapevolezza per quanto mi riguarda c'è anche l'impegno ma io spero che si arrivi veramente a dare seguito alla sua giusta esortazione perché è vero che in questo ambito c'è stata troppa trascuratezza e troppo lasciare andare come se non fosse assolutamente una questione tra le più importanti sulle quali il nostro paese si deve veramente confrontare perché per troppo tempo è stata trascurata grazie grazie ci sono altri interventi da parte dei colleghi se nessun altro chiede di intervenire allora ringrazio la dottoressa per la partecipazione ai nostri lavori grazie 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 grazie